benvenuti alla newsletter di oggi del canale televisione la bella conduttrice bianca guaccero si prepara ad un ritorno in grande stile sugli schermi rai ecco tutte le novità classe 81 la mattatrice barese bianca guaccero milita nella pubblica emittente dai primi anni 2000 ove si è affermata dapprima come attrice in fiction e mini serie televisive e lanciandosi in seguito nella conduzione di alcuni programmi di punta tra di essi spicca in particolare l'esperienza al timone del format detto fatto terminata non senza polemiche nel 2022 anche la sua vita privata risulta piuttosto impegnativa dal 2017 veste infatti i panni della mamma single della piccola alice dopo il naufragio del suo matrimonio con il regista dario a cocella ma bianca guaccero ha accettato con entusiasmo la sfida ed ha riferito a nuovo tv io amo fare la mamma è un'esperienza che ti cambia la vita e ti fa crescere mia figlia mi sta insegnando ad essere una persona migliore e per la conduttrice sembra essere arrivato anche il momento del decisivo riscatto professionale come annunciato sui social da bianca guaccero stessa da ottobre varerà un programma nuovo di zecca e le aspettative del pubblico rai sono alle stelle bianca guaccero pronta al gran ritorno con liberi tutti la mattatrice pugliese ha recentemente rivelato dal suo profilo instagram ragazzi sto andando a napoli finalmente posso dirvi che è arrivato il momento che abbiamo tanto atteso dal prossimo autunno staremo di nuovo insieme sono incredibilmente felice e grazie 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 per avermi sempre tenuta per mano nelle prossime ore sarò più precisa vi voglio bene bianca ecco dunque quale sarà il prossimo step di bianca guaccero la conduttrice inaugurerà a partire da ottobre liberi tutti un programma dedicato al tema dell'escape room che condurrà a fianco di peppe iodice e dei gemelli di guidonia il format occuperà la prima serata di rai 2 e l'avvenente mattatrice ha confessato avevo voglia di misurarmi con una nuova esperienza e l'occasione è arrivata al momento giusto la conduzione della prima serata su rai 2 fa parte del percorso professionale che voglio fare per imparare al meglio un mestiere oltre al battesimo del fuoco in prima serata su rai 2 con liberi tutti bianca guaccero ha riferito a nuovo tv di aver nuovamente calcato i set cinematografici ed ha rivelato ci sono altre novità ho appena finito di girare una commedia insieme a max tortora e vincenzo saleme che uscirà in autunno un ritorno al cinema dopo tanto tempo insomma il 2023 si chiuderà in bellezza per la spumeggiante conduttrice di bitonto grazie per aver guardato l'intero video la notizia è qui per finire mettete mi piace commentate in particolare cliccate iscriviti al canale per ricevere le ultime notizie ciao e ci vediamo nei prossimi video ciao